buongiorno a tutti benvenuti anche quest'oggi su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica caffè mercati un saluto come sempre da riccardo zago andiamo subito sul sito a vedere quali sono gli articoli della mattinata ringrazio nel frattempo anche tutte quelle persone che hanno partecipato ieri al webinar del lunedì mi accompagna luca di scacciate abbiamo fatto diverse analisi ma soprattutto abbiamo presentato il nuovo corso che sarà tenuto da enrico lanati allora andiamo subito sul sito per vedere proprio il programma del corso i segreti per cominciare a fare trading corso come detto a cura di enrico lanati ad un prezzo veramente molto molto basso a 99 a 99 euro dedicato quindi a tutte quelle persone che si stanno proprio in questo momento facendo al trading online e quindi sono al sono all'inizio due lezioni la prima il 17 di giugno e la seconda il 23 di giugno poi ne parleremo comunque nei prossimi nostri appuntamenti detto ciò torniamo sulla piattaforma anzi andiamo sulla piattaforma del broker kimura trading per parlare di un po di cose partiamo da euro dollaro come vedete in mattinata abbiamo l'euro che si sta apprezzando particolarmente come possiamo vedere se andiamo sul time frame orario che è questo notiamo una candela molto molto importante rialzo attendiamo la chiusura per capire se andrà a rompere questa fascia resistenziale quindi in ottica di breve termine abbiamo una rottura del livello di 1 22 35 che quindi potrebbe portare a nuovi rialzi importanti e anche da qui si può seguire comunque il trend in h1 per quanto invece riguarda il daily attenzione perché ci stiamo avvicinando agli obiettivi a dei target molto importanti in area 1 22 75 1 23 e 25 da qui i prezzi potrebbero ritracciare anche qui ogni ritracciamento è buono per posizionarsi al rialzo quali sono le zone supportive più interessanti a mio avviso 1 21 e 75 e 1 22 tutta questa zona qui la teniamo d'occhio perché potrebbe essere un buon punto dove posizionarsi nuovamente al rialzo trend realzista continua nessun segnale di inversione quindi continuiamo a vendere dollari americani e in questo caso a comprare euro andiamo a vedere invece euro gbp qui si potrebbe anche valutare uno short invece perché come possiamo notare dopo questo brusco ribasso che ha rotto la zona supportiva in area 0 86 e 30 0 86 e 40 i prezzi hanno ritracciato e come potete vedere lo stanno facendo ormai e stanno rimbalzando su questo livello ormai da giorni secondo me questa è una zona veramente molto molto buona e si potrebbe valutare uno short proprio da questi livelli poi target price e lo stop loss ma soprattutto la gestione della posizione verranno chiaramente codi condivise all'interno del gruppo traders club comunque 0 86 40 una buona resistenza per quanto riguarda dei supporti mi aspetto un ritorno qualora poi dovessi continuare l'impulso ribassista e almeno in area 0 84 90 ci aggiorneremo chiaramente anche domani al trading live detto ciò passiamo a euro franco dove siamo posizionati al ribasso volevo farvi notare due cose interessanti applicando l'indicatore cimo a qual grafico notiamo come i prezzi proprio in questo momento stanno testando la cumo quindi la nuvola anzi la parte piatta della nuvola e da qui insomma vedremo un po come chiuderà la giornata odierne importante che i prezzi non tornino al di sopra in chiusura del livello di 1 0 98 e infatti se torneranno sopra qui sopra questo livello probabilmente usciremo con stop loss in con stop loss in pareggio per il momento però lasciamo ancora la posizione perché la struttura è abbastanza chiara e il trend per il momento ribassista parliamo anche di italy 40 che so che interessa moltissimi di voi view chiaramente rialzista soprattutto dopo la rottura soprattutto dopo la rottura dei 24.600 24.700 punti adesso siamo sull'italy 40 future time frame giornaliero anche qui attendiamo dei ritracciamenti per entrare long ho messo un alert per il momento in area 24.540 vabbè l'ho messo qui in area 24.547 ma già da 24.600 secondo me si può provare a entrare al rialzo almeno questo è quello che io farò i minimi sono via via crescenti e insomma puntiamo alla rottura della zona di 25.000 nel medio termine anche 25.700 concludiamo il tutto con bitcoin ricordo che siamo in posizione da 33.000 e da 45.000 posizione di medio termine da tenere per qualche mese su con obiettivo i 79.000 dollari però è una posizione di ampio respiro che vado a guardare solamente sul time frame settimanale quindi quello che vedete andate per il settimanale una candela corrisponde a una settimana di contrattazioni bene ragazzi per oggi è tutto ci vediamo sul sito investire.biz ma soprattutto all'interno del gruppo traders club buona giornata e buon trading a tutti ci vediamo ciao 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 Grazie a tutti